Continuano senza sosta le ricerche di Roberto Di Santo, il 58enne accusato di tentata strage in fuga da martedì scorso. Dopo aver incendiato due auto e progettato l'esplosione in un appartamento a Villanova di Cepagatti, l'uomo è infatti scomparso lasciando solo un video messaggio in cui assicura che si consegnerà alla polizia entro dieci giorni. Così, mentre gli inquirenti tracciano il suo profilo psicologico tramite dichiarazioni, profezie e minacce varie lasciate sul web, le ricerche si concentrano nell'area pescarese e teatina poiché gli investigatori ritengono che l'uomo possa nascondersi nei luoghi che conosce meglio, come Roccamontepiano, Serra Monacesca e la zona metropolitana di Chieti e Pescara. Intanto Patrizia Di Santo, proprietaria dell'appartamento che il bombarolo voleva far saltare in aria, non lo invita a tornare. Ha paura di quel che può succedergli ora che si è messo nei guai. Continua a ribadire che suo fratello non è una bestia, che i suoi gesti hanno delle ragioni precise, ma anche che non si sarebbe mai immaginata che arrivasse fino a questo punto. Roberto non è un delinquente e sta solo chiedendo aiuto, non solo per lui, ma per tutti coloro che stanno soffrendo, perché non abbiamo una lira, non abbiamo un lavoro e nessuno che ci tuteli. Nel frattempo, i militari del comando provinciale di Pescara, coordinati dal colonnello Marcello Garanzi, in collaborazione con i colleghi di Chieti, puntano tutto sulle varie segnalazioni del mezzo col quale, presumibilmente, Di Santo sia in fuga, un vecchio camper bianco targato Alessandria.